E' qua allo Stadio Borrell di finale che c'è la festa, la festa a promozione dall'eccellenza in serie di dopo i 51 anni del Finale Ligure, una festa che come i nostri aspettatori di Media Gold TV hanno potuto apprezzare, è davvero fantasmagorica sotto ogni aspetto, la banda Ruppe Streppa, tanti ex del Finale Ligure, bambini del settore giovanile e un pubblico davvero strabocchevole. Sono qua con due personaggi, il vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giulio Grassi, ciao Giulio, con te ci sentiamo dopo, ma Candido K, presidentissimo da tanti anni del Finale Ligure. Si avvera un sogno, un sogno fantastico e alla vigilia di questo campionato Candido davvero inaspettato? Effettivamente noi sapevamo di avere una buona squadra, ma non ci saremmo mai aspettati di fare un campionato su questa... Saremeese, Magrazzurri, Genova Calcio erano i favoritissimi. Noi sapevamo che comunque non l'avremmo fatto da comprimari, però non con questa superiorità che abbiamo dimostrato. Lumeri grandiosi per una squadra vincente che ha perso, è ingiustamente un solo match, creato dei episodi contingenti, più forte difesa, più forte attacco, più vittorie e meno sconfitte di tutti. Si, comunque ha perso ingiustamente, non è detto che sia stato ingiustamente, comunque abbiamo perso una partita, però devo dire che l'artefice massimo di questa stagione è il mister, che lui è veramente stato il valore aggiunto di questa squadra e di questa società, quindi la maggior parte del merito mi sento di darlo a lui. L'impegno della Serie D è un impegno difficilissimo da far tremare i porsi, lo affronta al finale come lo affronta Candido? Così dicono, non c'è come provarlo per saperlo. Mi farete un'intervista l'anno prossimo a questo periodo e vi dirò com'è andata. Una Serie D da protagonista, dai, in ogni senso? Speriamo, speriamo, noi ce l'auguriamo, però ci rendiamo conto che l'impegno è veramente oneroso al di là dell'aspetto economico, anche dall'aspetto organizzativo, perché richiede un grosso impegno e ci stiamo attrezzando, come abbiamo sempre fatto, per riuscire a fare tutto al meglio delle nostre possibilità. Grazie Candido, so che sei impegnatissimo per l'intervista, complimenti anche il Presidente, ovviamente un protagonista di questa promozione, di cui ne parliamo anche con Giulio Grassi, il Vice Presidente della Fondazione Italiana Gioco Calcio. È un piacere essere qua, Giulio, quando c'è una festa di questo genere, con una delle nostre società savonesi, che ritorna protagonista assoluta, in eccellenza, e riassaggia il palcoscenico oneroso, ma onorevolissimo nella Serie D. Ti dirò di più, la cosa che mi fa ancora più piacere, e che l'ho vista diverse volte giocare, è la certificazione che ha garantito adesso il Presidente Cazzo, no? Quando dice che il valore ha aggiunto Butu, no? Ciò che io ho sempre sostenuto, al di là che Butu ha avuto il merito di mettere insieme una squadra, di mettere a posto un organigrama, che non è facile, come tu sai, perché non basta scendere in campo. La cosa che mi fa piacere è che se ne parliamo l'anno prossimo. Quindi l'impegno, l'impegno, non formale. Esatto. Una Serie D che accoglie purtroppo Savona, ne ho retrocesso matematicamente, ormai potrebbe accogliere la Serie Mese, addirittura un altro anno potrebbe essere una Serie D con 9-10 squadre, Liguri e tanti di Savona e di Imperia. Un fatto mai avvenuto nella storia, Giulio? È vero, mai avvenuto, però io credo sempre in Gesù bambino. Può darsi che il Savona... Venga ripescato. Eh, esatto. Se ha qualche santo in paradiso. Esatto, però io me lo auguro, me lo auguro, perché insomma, avere una provincia, poi se no sarebbe qualificato comunque, perché guarda che una quarta sede come la nostra che andiamo a fare... Non c'è nessuno, in nessuna regione. No, no, in nessuna regione, in nessuna regione, tranquillo. Grazie Giulio.